Si intitola Io Si e uscirà domani, 23 ottobre 2020, in tutto il mondo. Questo è l'EP di Laura Pusini, la grande cantante italiana per eccellenza. Il brano è la canzone originale di The Lifehead, La vita davanti a sé, con la grande Sofia Loren, con la regia di Edoardo Ponti, sarà candidato per il nomination di Oscar del 2021. Si tratta della prima collaborazione di Laura Pusini con Diana Warren il primo inedito per Laura dopo la vittoria dell'ultimo Latin Grammy del novembre del 2018 per l'album intitolato Fatti Sentire, il quarto ricevuto della sua carriera oltre al Grammy dell'anno 2006. Una canzone che conquista già dal primo ascolto, come dice la cantante, un grande piacere poter trovare un'occasione importante da sfruttare per collaborare con il grande Diana Warren. Insomma, questo è quanto. Un brano, insomma, che ti entra dentro, un EP straordinariamente sublime, epico, leggendario, unico, pienamente orecchiabile. Questo è il mio punto di vista del mio primo. Un saluto a tutti da Leandro, un narrato italiano. Complimenti a Laura Pusini. Ciao, da Narrato Italiano.